Ogni settimana i bambini di alcune scuole primarie della provincia di Catanzaro faranno merenda con latte e yogurt nel rispetto di una buona alimentazione. E' quanto prevede il programma europeo Latte nelle scuole, che si inquadra nel progetto di educazione alimentare promosso e sostenuto da Unione Europea e dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. I dettagli sono stati illustrati alla Camera di Commercio di Catanzaro in occasione di un incontro sull'importanza del latte e della sua filiera. E' un alimento sanissimo e siamo pronti come scuola ad accogliere un percorso che lo possa reintrodurre, che lo possa valorizzare e che lo possa far rientrare negli alimenti preferiti dei bambini. Per sostenere lo sviluppo di abitudini alimentari e nutrizionali sane partiranno inoltre il prossimo 26 maggio al Parco della Biodiversità di Catanzaro i Latte Days, giornate informative rivolte a circa 500 bambini, con il coinvolgimento dei produttori di latte locali, che in Calabria e in particolare in provincia di Catanzaro fanno registrare numeri importanti. La filiera del latte rappresenta nella nostra provincia una delle filiere più importanti. Siamo la seconda provincia in termini di produttività della Calabria, dopo Cosenza, abbiamo numeri significativi anche per quanto riguarda le cosiddette aziende di qualità, riconosciute dal Ministero, sta mantenendo un livello occupazionale importante. In Calabria abbiamo una vera filiera del latte rappresentata da un'associazione di produttori, si chiama Assolac, che raccoglie oltre il 70% del latte prodotto in Calabria.